Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione di pranzo del nostro TG in questo ultimo giorno dell'anno in questo 31 dicembre giornata di festa ma anche giornata di lavoro per tantissime persone dalle forze dell'ordine ai vigili del fuoco dove siamo stati prima ai medici ai sanitari del pronto soccorso ed è proprio lì che si trova la nostra Monica Nardini alla quale cediamo subito la linea in apertura di questa edizione del nostro TG buongiorno Monica a voi Ben ritrovati Angela mi trovo proprio al pronto soccorso dell'ospedale di Udine in compagnia del direttore Mario Calci nuovo direttore insomma operativo da dal giugno da questa estate direttore che nottata vi aspettate alla luce dei festeggiamenti di Capodanno? Noi siamo sempre molto preoccupati in queste occasioni ci aspettiamo di lavorare con serietà e con attenzione sperando che non si verifichino eventi particolarmente gravi chiaramente siamo pronti a gestire qualsiasi emergenza tutto l'ospedale insomma è attrezzato per poter gestire ma speriamo che quest'anno sia un anno buono ecco. Quali sono le condotte più a rischio che temete su cui rinunciate la pelle? Ma chiaramente l'uso di fuochi artificiali è una condizione che espone a rischio tutta la popolazione soprattutto se vengono usati da persone che non hanno l'età e che comprano fuochi artificiali magari non certificati ma soprattutto che hanno bevuto o che hanno fatto uso di altre sostanze ricordiamo che l'alcol è un problema non solo per chi guida ma anche nella condotta quotidiana valori anche di poco elevati riducono la sensazione del pericolo aumentano la confidenza in se stesso per cui ci si può esporre in maniera veramente facile a rischi ed esporre anche le persone vicine in particolare raccomanderei i genitori che hanno bambini e gli zii insomma di stare attentissimi a non esporre i piccoli a rischio di essere troppo vicini ai fuochi artificiali quando vengono esplosi perché quello sarebbe veramente una brutta cosa una tristezza insomma fare un grande non era qui i festeggiamenti dello scorso anno però anche la luce di questi ultimi mesi per esempio per il consumo di bevande alcoliche come vede la situazione in particolare rispetto ai giovanissimi ci sono interventi frequenti per questa problematica oppure no? beh sì noi abbiamo molto spesso e quasi ogni fine settimana qualche intossicato intossicato da alcol ma anche intossicato da sostanze che probabilmente assume insieme agli amici senza sapere bene cosa sta prendendo abbiamo il problema delle nuove droghe che sono anche difficili da identificare e che spesso possono avere effetti se sommati ad alcol e ad altre appunto varie sostanze non prevedibili è sempre molto molto raccomandato evitare di bere cose che non si sa esattamente cosa sono che possono contenersi soprattutto per i giovanissimi che non hanno neanche consapevolezza della loro tolleranza all'alcol per cui ci capita veramente di avere persone in coma che si risvegliano la mattina dopo solo perché hanno bevuto qualcosina di più ma non sanno esattamente cosa hanno bevuto per cui ai giovani raccomando molta cautela e molta attenzione soprattutto in questi momenti di festa e di allegria con i casi come età che hanno riguardato i più giovani che età possiamo parlare rispetto a questo? abbiamo episodi anche di ragazzini di 14, 15, 16 anni i più piccoli vanno in pronto soccorso pediatrico ma giungono anche da noi se sono in condizioni critiche quindi chiaramente la festa è bella sappiamo che va evitato e non va venduto l'alcol ai minorenni ma soprattutto raccomando a loro di essere molto cauti e di non rovinarsi una bella festa come deve essere appunto questo momento agli adulti dunque la raccomandazione sia di maneggiare correttamente i fuochi anche di tenerli lontano dagli occhi perché questo è un altro problema che riscontrato certamente i fuochi hanno delle regole di comportamento per gestirli soprattutto quelli un pochino più complessi vanno rispettati bisogna allontanarsi devono essere fuochi chiaramente nuovi non tenuti in soffitta per due o tre anni perché chiaramente l'esplosione è meno temporeggiabile e non si sa in quando esattamente scoppieranno per cui massima cautela allontanarsi tenere lontano i bambini e speriamo che tutto vada bene Direttore come si conclude per il pronto soccorso di Udine quest'anno e che cosa si prospetta per il nuovo? Si conclude con un aumento come sempre negli ultimi anni abbiamo 2-3 mila unità in più rispetto all'anno precedente abbiamo lavorato intensamente perché abbiamo avuto anche problemi di personale per cui ben garantito il servizio ma con molta fatica e con molto impegno ci aspettiamo un anno importante perché sarà l'anno in cui le aziende si uniscono avremo la nuova azienda che coinvolge anche gli ospedali di Palmanova, La Tisana, San Daniele e Tormezzo ci sarà Gemmone, Cividale ancora insomma che è tutto questo ambito che farà riferimento all'ospedale Spoc di Udine quindi un pronto soccorso che dovrà sempre di più garantire la gestione delle emergenze delle complessità di tutto il territorio facciamo quindi una raccomandazione alla popolazione di utilizzare in maniera responsabile e consapevole il pronto soccorso sappiamo che esiste il medico di medicina generale, la guardia medica cerchiamo di utilizzare il pronto soccorso quando veramente serve il dolore toracico, la dispnea, le situazioni complesse facciamo riferimento al medico di medicina generale quando è possibile ci auguriamo di avere un anno importante, intenso, ricco ma di soddisfazioni grazie direttore, la linea a voi in studio grazie, grazie allora Monica Nardini al risultato del pronto soccorso dell'ospedale di Udine per questi utili consigli alla vigilia dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno per fare in modo che una serata di festa non si trasformi in un qualcosa di negativo abbiamo sentito dei fuochi pirotecnici nelle ultime ore in tutta Italia sono stati fatti tanti sequestri da parte delle forze dell'ordine guardia di finanza, polizia, circa 10.000 botti di capodanno per un peso complessivo di 5 quintali di materiale pirotecnico sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a tre grossisti a Firenze, poi ancora a Napoli è stato arrestato un pregiudicato per detenzione di materiale esplodente da parte dei carabinieri della compagnia Vomero ancora 100 kg di fuochi d'artificio sono stati sequestrati a Palermo tre quintali di materiale pirotecnico pronto ad essere immesso sul mercato clandestino è stato sequestrato dalla guardia di finanza a Roma tanto materiale che se utilizzato poteva essere pericoloso proprio perché non conforme alle norme previste per il commercio e per la vendita di questi artifici pirotecnici attenzione dunque al materiale che viene acquistato per la festa di questa sera attenzione anche a come viene utilizzato a come vengono sparati questi fuochi pirotecnici per avere qualche consiglio in più siamo andati anche dai vigili del fuoco del comando di Udine anche per loro oggi una normale giornata di lavoro l'auspicio è che la notte non richieda tanti interventi allora andiamo a sentire proprio l'intervista che abbiamo realizzato al funzionario che si occupa dei rapporti con la stampa Valmore Venturini che nottata vi aspettate alle luci anche dei precedenti festeggiamenti di Capodanno? beh speriamo una nottata tranquilla che auguriamo anche a tutti i telespettatori l'anno scorso, negli ultimi anni a dire la verità al comando di Udine il trend diciamo degli interventi per quanto riguarda la fine dell'anno e l'inizio dell'anno è stato nello standard quindi l'anno scorso abbiamo avuto 15 interventi che rappresentano poco di più di quella che può essere l'attività normale del comando quindi non si è trattato di ferimenti gravi più cassonetti, incendiati, insomma cose del genere? sì esattamente qualche cassonetto perché qualcuno ovviamente sbaglia buttando magari quello che resta dei fuochi d'artificio o anche di altro come possono essere delle cendere all'interno dei cassonetti quindi si possono verificare incendi di cassonetti che pur sempre rappresentano un danno perché possono rappresentare che è un pericolo qualora questi siano collocati in prossimità di autovetture quindi potrebbero anche coinvolgere quindi la raccomandazione chiaramente è quella di non gettare nessun oggetto che brucia all'interno dei cassonetti rispetto al maneggiamento, all'utilizzo di botti e fuochi d'artificio quali sono le principali raccomandazioni che si sente di dare? le raccomandazioni sono quelle ovviamente di usare correttamente questi tipi di artifici acquistarli in negozi specializzati chiaramente e quindi usarli soprattutto da parte degli adulti e usarli lontano da quelle che possono essere fonti di combustibili come erba secca o comunque altro materiale che potrebbe incendiarsi a seguito appunto dell'uso e poi evidentemente anche di assicurarsi che questi siano completamente spenti alcuni vengono utilizzati appunto per strada altri oggetti come le fusette mi vengono a mente sono utilizzate in casa bisogna comunque prestare attenzione a 360 gradi la raccomandazione è sempre quella e pur sempre è un qualcosa che sta bruciando quindi la massima attenzione e la massima raccomandazione soprattutto se vengono usati da bambini quindi deve esserci in questo caso la presenza sempre di un adulto e allora andiamo a sentire adesso come trascorreranno il capodanno gli udinesi abbiamo raccolto un po' di voci questa mattina in centro città un giovane papà come festeggerà questo nuovo anno? ma molto tranquillamente perché la mia compagna lavora e quindi le faremo compagnia nel ristorante qui a Udine lo passeremo in famiglia comunque andrete a vedere poi i fuochi d'artificio in piazza? non penso ce la faremo però da dove siamo li possiamo comunque vedere quindi li vedremo da distanza che cosa augura ai nostri telespettatori per questo nuovo anno e nuovo decennio? a tutti sinceramente di realizzare un po' i loro sogni tutti noi quotidianamente cerchiamo di realizzarli e penso sia la soddisfazione più grande andrò su a Cavazzo Carnico è previsione un cenone casalingo? no no un cenone con amici e divertirsi insomma ai nostri telespettatori cosa augura per il nuovo anno e decennio? un anno più felice di quest'anno insomma perché quest'anno tra un po' la politica e un po' tutto si è un po' trascurata un po' le feste un po' tutto quanto in famiglia in famiglia cenone quindi? sì penso di sì la padrona di casa non ci dice mai cosa lei non cucinerà è tranquilla almeno per i festeggiatori? no per questo no non cucino che cosa augura ai friulani per questo 2020? un po' di serenità a casa a casa è importante festeggiarlo comunque anche a casa sarete svegli fino al mezzanotte? ma spero di sì di riuscire perché andrà in terrazza? sì sì in terrazza andiamo lì stiamo un ben di Dio quindi vi gustate i fuochi d'artificio? a prima una bottiglia e dopo c'è un po' di nana mia nonna beh non è un programma insomma mica male comunque è romantico se siete anche in casa ecco sì sì è romantico perché siamo da 60 anni che siamo insieme e perciò dobbiamo festeggiare adesso festeggiamo i 60 anni di matrimonio tanti auguri e lei che cosa augura ai friulani per questo 2020? una buona fortuna e tanta salute lei come lo trascorrerà questo Capodanno? a casa tranquillo perché io sono tutto esaurito lei ha lavorato sufficiente bravo voglio stare sereno come lo trascorrerà questo Capodanno? stasera al Veglione andiamo con 50 euro mangiamo, beviamo e ci ubriachiamo stasera si riposa al 100%? mi riposo al 100% stasera che cosa si augura per il nuovo anno? che cosa augura ai nostri aspettatori? tanta fortuna e salute e allora tante le feste in piazza in questo ultimo giorno dell'anno da Udine a Lignano a Udine si comincia alle 22 in piazza primo maggio con la musica del DJ friulano Chris Simon che mixerà i brani attuali del panorama pop e reggaeton più famosi e poi ancora l'esibizione della cover band Pink Armada dalle 23 poi ci sarà il conto alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno gli interventi delle istituzioni del sindaco di Udine Fontanini dell'assessore Maurizio Franz e degli altri componenti della giunta per i tradizionali auguri alla città e poi lo spettacolo pirotecnico uno spettacolo pirotecnico silenzioso come è avvenuto anche negli ultimi anni proprio per rispettare gli animali sempre molto spaventati dai botti di fine anno dicevamo tante feste da Udine a Trieste, Gorizia, Pordenone, Lignano anche a Palmanova la festa in piazza grande dalle 22 una serata da trascorrere sotto le stelle tra fuochi pirotecnici DJ, live band, spettacoli e divertimento sul palco di Radio Company si esibiranno il DJ Max Morgani e Victor Voice e la band Stereo Live a mezzanotte tutti con il naso all'insù per il tradizionale spettacolo pirotecnico andiamo in montagna adesso a Forni di Sopra dove è stata confermata anche per questo 31 dicembre la tradizionale fiaccolata un evento storico che si ripete da oltre 50 anni ed è organizzato dalla scuola di sci di Forni di Sopra in collaborazione con Promo Turismo e Comune la pista della discesa della fiaccolata è la pista Cima Cuta nella Schia Arena di Davost il ritrovo è alle 18 nei pressi della scuola di sci di Forni di Sopra la partenza della fiaccolata è fissata per le 19 dopo la discesa degli sciatori ci sarà un brindisi e lo spettacolo pirotecnico che saluterà il 2019 ed augurerà a tutti un buon 2020 e 20 tornando a Udine fine d'anno in musica a teatro al teatro nuovo Giovanni da Udine con il tradizionale concerto di fine anno della Strauss Festival Orchestra Wien l'appuntamento è alle 18 sul podio quest'anno ritornerà il grande Peter Goet musicista di fama internazionale storico fondatore della fondazione Mittele Europea ormai di casa sul palcoscenico del teatro nuovo due le voci soliste quest'anno entrambe viennesi che accompagneranno il pubblico fra arie e duetti in un travolgente concerto di addio al 2019 si tratta del soprano Ethel Meraut e del tenore lirico Franz Gürtel Schmid il programma anch'esso nel pieno rispetto della tradizione sarà di sicuro a pile per ogni tipo di pubblico dai ritmi travolgenti dei capolavori della famiglia Strauss fra tutti il waltzer sul bel Danubio Blu ai successi firmati dal padre dell'operetta Franz Lear andiamo avanti con la cronaca adesso perché c'è stato un arresto nelle ultime ore a Gorizia da parte della polizia che ha fermato nei pressi del casello autostradale di Villesse una cittadina rumena di 59 anni destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Reggio Calabria nel 2014 la donna che era a bordo di un autobus con targa rumena diretto in Slovenia deve scontare una pena di due anni di reclusione per i reati di impiego di minori nell'accattonaggio e in osservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori è stata portata in carcere a Trieste l'economia adesso con gli ultimi dati non positivi forniti da Confartigianato che ha stilato un bilancio sul numero delle aziende operative al 30 novembre 2019 in provincia di Udine sono diminuite di 266 unità un settore in flessione dunque quello dell'artigianato archiviamo un anno difficile ha osservato il presidente di Confartigianato Imprese Udine Graziano Tilatti caratterizzato ancora dalla recessione da una crisi mai finita che se da un lato ha eroso ulteriormente lo stock delle nostre imprese dall'altro ha veicolato un cambiamento epocale per tutti noi tornare indietro non appare possibile guardarsi alle spalle inutile il 2020 ha aggiunto Tilatti sarà un altro anno di grandi sfide dovremmo continuare a lavorare nell'ottica delle collaborazioni e sempre più anche delle aggregazioni fra territori supporteremo le imprese che necessitano di fare investimenti ma hanno difficoltà ad accedere al credito bancario stiamo lavorando anche grazie alla collaborazione con la regione ha concluso Tilatti a una cassetta di strumenti che sarà pronta nel 2020 i lavori della giunta regionale dell'ultima seduta della giunta regionale di questo 2019 che ieri ha dato il via libera come vi abbiamo già raccontato all'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale ma anche deliberato in materia di rischio idrogeologico allora andiamo a sentire le parole dell'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro Assessore Scocimarro oggi in giunta ha una delibera che rende più operativa la macchina regionale in caso di intervento per quel che riguarda il rischio idrogeologico certo il presidente Federica è stato come gli altri presidenti di regione nominato commissario per il rischio idrogeologico in maniera che intervenga celermente e velocemente quando c'è questo rischio con questa delibera lui può utilizzare il personale in maniera snella e veloce non lo sburocratizzare quello che è la macchina appunto regionale quindi un ulteriore passo per quello che è appunto un intervento veloce e celer quando c'è il rischio idrogeologico andiamo sui campi delle Bruseschi adesso dove è pronto per noi Lorenzo Pausa che sta seguendo l'allenamento dei bianconeri impegnati in una partitella giusto Lorenzo buongiorno buongiorno Angela a tutti i telespettatori sì è proprio così è iniziata proprio da pochissimi minuti questa partitella in famiglia per chiudere il 2019 anche con uno spirito abbastanza leggero un amichevole comunque con tanto di terna arbitrale della Lega Calcio Friuli Collinare sono riuscito appena in tempo ad individuare le composizioni delle due squadre da una parte abbiamo ve li dico in ordine sparso Niccolas Opoku De Paul Barak Wallace Struger Larsen De Maio Pussetto E Kong Lasagna E Okaka dall'altra parte Perizan Bekao Sierra Alta Sema Fofana Iajalo Teodorcik Noitink Teravest Nestorowski e Mandragora una partitella quindi con praticamente tutto il gruppo a disposizione del tecnico Veneto il solo Juan Musso si sta allenando a parte per svolgere un programma di potenziamento personalizzato per essere tirato a lucido in vista della ripresa del campionato lunedì 6 gennaio contro il Lecce sottolineiamo comunque che è in massimo stato di forma come abbiamo visto anche nell'ultime partite dell'anno che hanno fatto sì che venisse poi nominato anche come migliore bianconero del 2019 ai box soltanto Samir in piena riabilitazione dopo l'intervento al menisco del ginocchio sinistro di una decina di giorni fa per il resto quindi tutti in campo per concludere così l'anno vecchio e per tuffarsi poi già a partire dalla giornata di domani nel 2020 con una seduta pomeridiana quindi un cronoprogramma che continua ad essere serrato e molto intenso per cercare poi di iniziare il 2020 esattamente come lo si era concluso lo ricorderete con i tre punti conquistati contro il Cagliari questi allora gli aggiornamenti dal Bruseschi Angela a Telalina è un augurio di un felice anno nuovo a tutti grazie grazie a Lorenzo Pausa auguri che ricambiamo siamo in chiusura prima però di dare uno sguardo alle previsioni del tempo subito un aggiornamento con un'ultima ora appena battuta dall'agenzia ANSA in riferimento alla notizia del trasferimento di testate nucleari dalla Turchia all'Italia apparse in questi giorni una notizia apparsa in questi giorni su alcuni giornali il Ministero della Difesa ha smentito la notizia le armi nucleari dalla Turchia all'Italia sono una fake news totalmente prive di fondamento le notizie che circolano da alcuni giorni lo ha affermato appunto in una nota il Ministero della Difesa nel comunicato si sottolinea inoltre che ogni aspetto relativo alla postura nucleare in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i paesi membri nei giorni scorsi erano circolate voci che 50 testate nucleari sarebbero pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik in Anatolia alla base USAF di Aviano in quanto gli Stati Uniti diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del Presidente turco Erdogan per via del suo feeling crescente con la Russia di Putin una notizia appunto smentita con un comunicato ufficiale con una nota ufficiale del Ministero della Difesa riportata dall'Ansa e sempre per quanto riguarda la cronaca ieri sera vi avevamo riferito del crollo di una volta di una parte del soffitto di una galleria sulla A26 in Liguria fortunatamente non ci sono stati feriti l'autostrada è stata riaperta ma dalla Liguria arriva un'altra notizia nella notte c'è stato un incendio nel cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di Genova ecco qua le immagini a prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura fortunatamente non ci sono stati feriti il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio l'incendio è stato domato dai pompieri ma da segnalare appunto ancora questa notizia che riguarda il cantiere per il nuovo ponte di Genova e adesso possiamo dare uno sguardo al meteo prima di salutarci un vasto anticiclone si estende dall'Italia scusate si estende sull'Europa e fa fluire sull'Italia correnti settentrionali secche e miti in quota anche per il pomeriggio di oggi avremo cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature in versione termica nelle valli specie di notte congelate che interesseranno ancora anche la pianura le temperature massime oggi raggiungeranno i 7-10 gradi anche domani primo giorno del 2020 avremo bel tempo con cielo sereno in versione termica di notte nelle valli al mattino sulla costa soffierà a Borino o Bora moderata le minime andranno dai meno 3-0 gradi in pianura ai 1-4 gradi sulla costa le massime si aggireranno attorno ai 9-12 gradi in pianura in quota a 2000 metri avremo 2 gradi quindi lo zero tecnico domani sarà a quote abbastanza elevate superiori ai 2000 metri ed è tutto per questa edizione del nostro Tg io vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione live questo pomeriggio alle 16 subito dopo pomeriggio calcio grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata in nostra compagnia in compagnia di Udinese TV grazie per la vostra attenzione